Ciao a tutti gli utenti di Youtube, questo video è stato creato dagli spanchiossi della classe 4a TST Fai un giro, Loredana, Jessica, Igano, Jessica, Valentina, Federica Ed è stato creato per prendere per il culo ogni piccolo componente della nostra classe Iniziamo con Alvomalputo Vedete, guardate i suoi movimenti da animale E' stoico, a modo suo sta studiando Prova, assolutamente, perché sputo Ok, diciamo tutta Italia perché sputo Si chiama Salvo Sputo perché allora quando lui perse la virginità Si sputò nel suo misero pene per infilare il cosiddetto profilattico Bene, cambiamo prospettiva Eccolo, eccolo, Terra Nova Angela è lui E' lui, colui che c'è come gruppo su Facebook Osservatelo, è un ragazzo che viene da Paternò Questo ridicolo, questo ridicolo quartiere dove mangiano le rane Da sotto l'unità le rane Poi, Jenny, Jenny, lei è brava Si commenta da sola Si commenta da sola, però è una brava ragazza A me mi fa simpatia, sinceramente E' apposta, va Poi, eccole le due Una fa spinta di studiare L'altra è sua complice Ma sono due primi di malosangosi, tutto eroe Il re, questi tre E' Fiola, a destra Centrale, Martina L'altro è Gesetta Succarosi cioppa a posto, io volevo bene Magari ci sorremmo Non c'è meglio vedere Esatto Lui è Dario Quello E' Dario Quello con gli occhiali che sta saltando Che è un grande Dario, grande Dario E' un'aria da minchione Però è a posto, caro Ne vuole bene Suriassai E' Garosova Lui è Panino Lui è Danilo Adesso capite il Dario Adesso non si vede perché è il cappello Ma è a posto, non lo capisco L'altra è Emanuela Russo E' affissata che l'inghiepacca è con il tuo elai E' con il tuo elai L'altra è Alessandra Ambriaguna Che ha direttamente festa questa caro E' però La voglio bene E' una secchione Anche lei pureva a posto La voglio bene Lei e Simona Sono spesa dieci giorni Perché usavo il telefono in classe Con carica batteria Ora muore su quattro e quattro Ora muore su quattro e quattro O fa c'è lo buon dico Perché com'è E' pagina Perché? Ma un po' Però vai Vai Ma non ti è una cosa E' la cosaccia E' la cosa fettosa Lui Col cappello in testa E' Giulia Il nostro rocchiettaro Che un giorno Lui spera di entrare nel mondo della musica, ma non ci riuscirà a mano. Diventerà famosa. Il giudice. L'altro è Vito. Il botto a ragione. Il botto a ragione. Il botto a ragione. Il botto a ragione. L'innamorato. Dimona. Cale di amore. Vito, l'innamorato. Si è innamorato, ha fatto 18 anni ed è innamorato. Sta usando di più il papà in questo momento. Sta usando il papà, non so che vuol dire. Posso spiegare? Usa il papà e per il resto. Ah, non c'è niente. Il nostro video è finito. Salutate caro. Ciao. Ciao utenti di Youtube. Commentate soprattutto. Votate. Ciao Evandro. Ciao Jessica. Ti voglio bene. Siamo che prendiamo questi soldi con la schedina di domenica.